Beati gli invitati alla città del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno che Tu entri nel mio cuore, ma di soltanto una parola, l'anima di Dio c'è la salva. Il corpo di Cristo. Amén. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato, lodate la mia misericordia. E' un dono del Padre, del Padre mio e vostro. Usatela bene, non come fate voi. La misericordia va usata dopo che uno è pentito. Il perdono lo do io, insieme alla misericordia. Non viene data così come voi distribuite caramelle. Sì, la distribuite come fosse caramella. Io non do misericordia a chi non è pentito. Pentito. Deve essere pentito. Io ho misericordia, ma il pentimento è necessario. Dovuto a Dio, dovuto al Padre. E' dovuto. Nessuna misericordia viene data a chi non è pentito. No. Non devi pensare che la misericordia è per tutti, anche senza pentimento. No. No. La misericordia ci vuole il perdono. Il Padre, il Padre, il Padre, il Padre, vede tutti voi, tutti voi. Siate consapevoli di quello che fate. Siate consapevoli. Io, Dio, vi vedo. E tanti di voi, non fanno l'etromesso sacerdotale. non ne fanno, abusano, 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 abusano. Io, Dio, io, Dio Padre, castiglierò tremendamente. Quindi, ricordatevi. Ricordatevi. Gesù, mio figlio, diceva, perdonami. E tramite lui, non fanno l'etromesso sacerdotale. E tramite lui, ho perdonato. Vai. Ora parlo io. Quindi non castigli. Vi dico che vi vedo e tanti di voi abusano. Io castiglierò questi sacerdoti tremendamente. Non sanno niente. Non sanno quello che fanno. Sono convinti, convinti, convinti. No, perché sanno. Mio Dio, sì. La Trinità vi benedici, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amo. La Misericordia scenda su di voi e sia sempre con voi. Usatela bene. La mamma. La mamma vi bacia, vi bacia e vi sorrita. È contenta. Amo. La mamma. La mamma. La mamma. La mamma.